Secondo me le cose che contano più nel lavoro è innanzitutto collaborazione, collaborazione tra i colleghi, senso di responsabilità e determinazione con cui si svolge il lavoro che viene affidato. Io aggiungerei organizzazione e metodo, competenze e professionalità nello svolgimento del proprio lavoro. Leale e collaborativo ed è molto importante anche il confronto su quello che viene fatto, su quello che si deve svolgere. Molto senza prevaricazioni, senza che ci sia competitività, ma semplicemente un raggiungimento dell'obiettivo comune dove il risultato è un obiettivo di squadra. Mi dispiaceva vedere che le cose, di quanto bisogna aggiornarsi, per quanto ci sono per forza dei cambiamenti. Tent'anni non può rimanere sottostatico. Ho pensato di guardarmi intorno e trovare una realtà forse anche più piccola, perché in questo momento anche la mia vita privata richiede un'attenzione maggiore, quindi forse una realtà più piccola. ho pensato che mi permettesse di poter affrontare anche quella che era la mia spera privata. Ho percepito subito la sua tendenza all'ascolto e mi ha messo subito a mio agio. Ha fatto delle domande molto chiare, con molta franchezza. Sono sentita di aprirmi liberamente, dire tranquillamente quelle che erano poi in tutta sincerità le mie motivazioni e insomma ho visto che lei ha compreso che forse poteva proprio pormi per questa azienda e ho accettato perché poi in un secondo colloquio anche con la titolare dell'azienda abbiamo trovato una certa connessione tra di noi, nel senso che c'è una certa intesa dove le mie esigenze, esigenze aziendali sembravano che si potessero incontrare. Mi trovo a dover imparare tante cose, quindi a raggiungere degli obiettivi insieme alla mia collega. Sono fortunata che ho trovato una collega veramente disponibile che mi metta a mia disposizione tutta la sua esperienza. Quindi per me è motivo di soddisfazione raggiungere degli obiettivi e quindi sono stata fortunata con la collega che ho trovato e che questi risultati li ho potuti raggiungere grazie al suo valido supporto. Mi ha dato tantissima tranquillità. C'è un confronto lavorativo molto diretto, sincero e leale, quindi ci confrontiamo spesso e questo confronto ci aiuta a crescere entrambe, sia a me che a lei. E soprattutto è un confronto molto schietto e competente. Poi devo dire che Carmela è una collega molto determinata. Cioè io dove voglio arrivare arrivo, ma penso di avere trovata una peggio di me. Quello che vogliamo fare arriviamo e lo portiamo a casa. Sono molto contenta perché veramente trovo tantissimo sostegno. Sostegno.